Direttore, nelle ultime ore il pronto soccorso è andato in tilt con tanti disagi, come mai? Io credo che il pronto soccorso va in tilt molto frequentemente, in molte giornate, perché fondamentalmente è diventato l'unico punto di riferimento per la risposta dell'emergenza a livello non soltanto provinciale ma anche extra provinciale. Noi vediamo che l'afflusso al nostro pronto soccorso è diventato veramente impossibile, oltre 150 accessi al giorno e naturalmente l'organico che noi abbiamo e l'organizzazione che noi abbiamo è dimensionato anche per le cose più importanti, per le emergenze vere che dovrebbero arrivare nell'azienda ospedaliera, quindi fondamentalmente per tutto ciò che è codice giallo o codice russo o un codice verde che può sfociare nel codice giallo, quindi patologie importanti. Ma se noi facciamo in modo che arrivi in pronto soccorso anche il codice bianco o il codice verde dell'invortunistica che ha soltanto bisogno della radiografia e di una certificazione per motivi assicurativi, naturalmente la risposta dell'organico attuale diventa molto insufficiente. È stato promesso l'arrivo di altri medici? A che punto siamo? Allora, la nostra scelta strategica, vista che l'accesso in un ospedale per l'80% è tramite pronto soccorso, naturalmente avevamo fatto in modo che la deroga che avevamo avuto del 15% relativa alla differenza personale tra il 2012 e il 2011 era di 7 unità. Le 7 unità che noi abbiamo messo a concorso sono tutte 7 per il pronto soccorso, 3 per il pronto soccorso reale, 1 per il pronto soccorso ostetico, 2 per il pronto soccorso neurochirurgico, quindi l'attenzione dell'azienda verso il problema dell'emergenza vera è massima. Questi nuovi attivi basteranno a superare l'emergenza? Assolutamente no, questo l'ho detto già quando abbiamo avuto la deroga del 15% e una goccia nel mare.